Se non si concretizza, non si vince. La Civitanovese per larghi tratti fa la partita con una supremazia territoriale piuttosto netta, crea occasioni e puntualmente le sciupa. D'altronde il bottino di 8 gol in 11 partite è chiaro. I rosso-blu debbono mordersi i gomiti dal punto di vista della manovra, non sono dispiaciuti e con quella qualità in mezzo al campo è inevitabile. Ma la prima linea non capitalizza. Uno dei grandi ex, Nicola Moretti. Nicola, il grande ex che ha ricevuto tanti applausi dall'una e dall'altra parte. Sul piano della manovra la Civitanovese a mio avviso non è dispiaciuta, si concretizza pochissimo. Sì, purtroppo il calcio è questo. Se creiamo tante occasioni poi purtroppo non le sfruttiamo tutte. Capita anche che subisci un tiro in porto, un euro goal splendido Iacoboni. Purtroppo è un periodo che sappiamo che le cose girano così, però purtroppo è soltanto colpa nostra se non riusciamo a dare la svolta per cambiare un po' la stagione. Il risultato Bosideo anche oggi era quello che sicuramente dal punto di vista del gioco meritavamo, però ci manca quel pizzico di cattiveria che poi paghiamo a caro prezzo. Sulla tua ex squadra si è rivista la mano di Omiccioli? Sì, secondo me si è vista subito un po' l'impronta del mister. È ovvio che magari in queste circostanze nel calcio pagano gli allenatori e anche se magari secondo me all'area canadese in questo momento manca qualcosa più che altro dal punto di vista dell'organico. Non qualitativamente, ma piuttosto numericamente perché anche oggi mancava committante, mancavano morbiducci e un po' ha dovuto fare il mister i salti mortali per ricostruire la difesa di Edo. Però ecco, spero che con qualche innesto riescano ad ottenere la salvezza perché è ovvio che faccio un po' il tifo anche per loro in chiave salvezza. Infatti la recanatese gioca alla gara che deve, giudiziosa, guardinga, attenta, consapevole che senza i suoi due difensori centrali è dura. Il meglio, i giallorossi lo offrono nella ripresa quando riescono a rimontare con una prudezza d'applausi di Jacoponi e contengono senza grande fatica gli assalti confusi dei rosso-blu. In attesa dei tempi migliori, un punticino dal peso specifico enorme. La partenza dei ragazzi di Omiccioli è stata comunque confortante e Pagliardini sguscia sulla destra e saggia subito le qualità di Perozzi. La Civitanovese risponde con una bella azione in linea con Moretti che serve in corridoio Ridolfi che dimostra subito di non essere in gran giornata. Saggio delle qualità di Jacoponi con un lancio millimetrico per Pagliardini ed ancora Perozzi è pronto. Dopo il quarto d'ora il pressing rosso-blu diventa asfissiante. Prima la vista tenta un diagonale sul quale Paniccià si allunga e la difesa si arrangia. Poi i due furetti, Moretti e la vista, confezionano una nuova chance neutralizzati in extremis. Si fa vedere anche l'attesissimo Biso al venticinquesimo con un assist che stavolta la vista asciupa in modo clamoroso. Passata la bufera la Recanatese si organizza e prima del riposo corre soltanto un altro rischio, ancora propiziato da Moretti, sfera che filtra per Ecanima, tiro al lato. Entra Galli per Nardone, i tifosi dedicano un bello striscione all'indimenticato Mondino, storico magazziniere rosso-blu. Al dodicesimo si sblocca il risultato, Botticini galoppa sulla fascia a velo di Ridolfi e gran destro di La Vista all'angolino. La possibilità di chiudere Cittanoce l'ha subito dopo, ma Ridolfi spara alle stelle dopo una combinazione Botticini-Biso. Ed allora arriva il pari, Biso ingenuamente perde un pallone sulla tre quarti, Jacoponi beve Savini e scarica un sinistro di suoi che da solo vale il prezzo del biglietto. Tra la semi-oscurità e la foschia è la fine dei giochi con la Re Canatese a controllare senza grandi patemi. Mister, una gara che hai preparato in questo modo, una gara di contenimento prudente, ovviamente la Civitanovese ha fatto la partita, tu hai sfruttato una prudezza personale del tuo giocatore di maggior caratura tecnica. Sì, l'avevamo preparato in questa maniera qui, cercando di togliere iniziative a loro, tutto quanto non ci siamo sempre riusciti, anche perché loro hanno fatto la partita, ma oltretutto hanno avuto anche qualche occasione da gol. Anche se noi nella prima frazione abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli dove potevamo anche noi far male. Però tutto sommato, dico, tutta la partita è giusto il pari. In semi-emergenza, senza i due difensori centrali, certo si è un po' sofferto, però tutto sommato ha retto, soprattutto nel secondo tempo non ci sono stati grandissimi rischi, soprattutto dopo il vostro pareggio. Sì, noi sapevamo di dover rischiare e poter rischiare qui a Civitanova, perciò eravamo pronti a questo tipo di partita. I miei ragazzi l'hanno fatto molto bene, hanno sofferto, siamo andati sotto di un gol che non era facile, dopo che è normale che vieni da sei partite con cinque sconfitte e un pareggio, perciò riprendere la partita, recuperarla non è stato semplice. Molto bene per i ragazzi, il morale per tutti, perché poi ti permette anche di lavorare meglio. Pagliardini e Miani sono usciti acciaccati? Pagliardini aveva un problemino sia a Caviglia che un problema alla coscia, mentre Andrea Miani è uscito perché era sfinito, non ne poteva più.